Cari amici, io mi paragono a un cercatore di perle e quando ne incontro qualcuna sento insopprimibile il desiderio di condividerla. Spero con ciò di non annoiarvi, di non stancarvi. Questa mattina, leggendo il breviario che noi sacerdoti recitiamo, mi è capitata una lettura di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio è un santo grandissimo, purtroppo poco conosciuto dagli stessi milanesi, conosciuto in teoria ma non nei suoi testi, e fuori in Milano ancora meno. Mi riprometto, se riuscirò, di leggervi la sua storia in tre o quattro o cinque puntate, come ho fatto in passato, con Don Bosco, con Don Gnocchi, con i pastorelli di Fatima, con Bernadette di Lourdes, e così via. Se riuscirò. Intanto però voglio leggervi questo brano che fa parte di un suo commento a dodici salmi. In particolare ritengo, confrontando un po' sulla Bibbia, che sia un po' un commento al Salmo 37. e parla del silenzio. Dico Salmo 37, perché il Salmo 37 e 36 ha come titolo sta in silenzio davanti al Signore e comincia non adirarti contro gli empi, non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidio. E lo spiega con parole meravigliose. Ve le leggo come vi avrei letto magari un Salmo che è la stessa cosa questa, ecco, no? Parla a Sant'Ambrogio e dice L'arte di consolare si deve nutrire di dolcezza, non di asprezza. Deve calmare il dolore, addolcire il bruciore più che provocare turbamento. Oh, amici, io mi permetto di dire o avete questo testo da meditare, da mangiare, da digerire, da ruminare, altrimenti vi toccherà ascoltare queste mie parole. L'arte medica del corpo ci dà un sicuro ammaestramento perché lei sa usare per le piaghe brucianti medicamenti più blandi adatti ad alleviare il dolore. e le ferite prima si leniscono e poi si operano proprio perché il taglio dell'operazione non esasperi la piaga. e mi viene in mente prima di toccare un dente se hai un accesso sotto devi toglierlo oppure se tu devi subire un intervento chirurgico non puoi farlo se hai la febbre o se il tuo corpo è per aria. E allora Ambrogio dice se devi fare un'osservazione, devi fare un'operazione a un tuo fratello eh, non devi infiammare ancora di più il suo animo. Oh, cari amici, quale sapienza! Provate a pensare quante volte in casa si fanno osservazioni magari giuste ma al momento sbagliato con un tono sbagliato. Tu hai fatto l'osservazione giusta ma hai usato un tono che ha ottenuto il contrario. Ti pare? Oh, Signore, dovremmo ricavare anche preghiere da queste letture e dire Signore, sii Tu il mio educatore, sii Tu il mio maestro. Dunque, se il medico deve fare così, quanto più noi dobbiamo stare attenti nelle nostre visite di conforto a qualcuno a non metterci a parlare e a sprolochivare con facilonerie e con superficialità. Prendete l'esempio da Giobbe. Per sette giorni è rimasto zitto. Sono rimasti zitti anche gli amici e non avrebbero parlato se Giobbe non avesse rotto il silenzio per il dolore. Mamma mia, queste cose le scriveva 1600 anni fa amici. Ambrogio. Bisogna infatti cercare bene il modo di iniziare il tuo discorso se non vuoi che la tua consolazione urti nel modo con cui parli. Anche il silenzio può essere una medicina. Mentre chi parla troppo prematuramente può ferire ancora di più. E non è strano questo perché la chiacchiera non è esente da peccato. il medico sa aspettare il momento giusto per fare il suo intervento e lo fa quando la malattia ha superato il suo stato di eccesso perché una malattia non ancora ancora acuta e non matura non accoglie bene i rimedi terapeutici. mi viene in mente quello che ti dice l'oculista signora lei deve fare la cataratta però non è ancora matura e quanto più dobbiamo poi spiare il momento giusto con cui dire la nostra parola tempestiva sanante che dia la sensazione di alleviare di calmare il dolore e non di riaccenderla oh signore come siamo stupidi la lingua la lingua la lingua stiamo leggendo la vita la 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 lettera di san giacomo e tra l'altro devo decidermi a commentarvi anche quella perché noi le cose le sappiamo ma le dimentichiamo e allora abbiamo bisogno di sentirsele dire ripetere 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 cari amici non c'è fretta di parlare a una donna che ha perso il marito o i figli di morte prematura non c'è fretta lei non ti starebbe neanche ad ascoltare se non è ancora diminuito l'accesso del suo dolore come è vero certe volte sembra che noi parliamo per noi non per gli altri non per consolare ma per dire il nostro punto di vista ma taci taci fai silenzio di fronte al dolore spesso è sempre Ambrogio che continua è veramente un grande spesso abbiamo avuto di vedere liti nate proprio da tentativi di consolazione ma tu sei andato in quella casa per partecipare al dolore non per provocare liti poi bisogna anche cercare bene l'ordine in cui parlare in cui dire le cose non devi introdurti dire senti ascolta questo e questo tutte parole che non servono attento a non suscitare nel dolore altrui la reazione non essere assente quando è necessaria la tua presenza ma se ci vai usa un linguaggio adatto non duro lo dice bene la vicenda di Giobbe quando dice mi sono sopraggiunte tutte insieme le più gravi prove e i miei fratelli si sono allontanati da me e i miei amici sono diventati spietati e accusatori con me cari amici questo è il brano di Ambrogio Ambrogio di Milano sentite io vi mando la mia roba se vi piace ascoltatele riascoltatele condividetela se vi sembra inutile cancellatela tranquillamente ma se vi servono come qualcuno mi dice insomma non solo le prediche non solo le lezioni di 45 minuti ma anche queste pilloline insomma queste queste che possiamo chiamare come le chiamavo semi non mi ricordo più semi di senape ecco ciao amici un Ave Maria per me non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo Grazie.